ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello ed oggi il bello prende le sembianze moderne di questa visconti opera metal true black devo ringraziare gli amici di itapec.com per avermi prestato questo esemplare ai fini della recensione vi parlerò di quello che circonda a livello di anedotica la produzione di questa penna la esamineremo in ogni sua parte faremo una prova di scrittura e concluderemo con una valutazione una pagellina con cui sono solito prendere in considerazione vari aspetti per valutare al meglio al mio meglio diciamo gli strumenti di scrittura che entrano o passano entrano in mio possesso passano purtroppo per poco tempo dalle mie mani bene quindi grazie agli amici di itapec.com per avermela prestata perché è una penna che non viene più prodotta fa parte della storia di visconti è una penna è la penna per me delle leghe metalliche perché innanzitutto è realizzata in un materiale innovativo per le penne stilografiche non mi risulta che ne siano state fatte altre con questo materiale si chiama avion al è una lega questa è la penna delle leghe ve lo anticipo questa è realizzata con una lega di rame al di alluminio innanzitutto come parte principale poi rame al 4,4 per cento manganese all'1,5 per cento e magnesio allo 0,6 per cento viene usata nell'aviazione diciamo anche in aerospazio con variazioni di queste percentuali che vi ho detto più o meno rame per portarla a un grado di resistenza sempre maggiore e ottenere una resilienza del materiale che possa soddisfare requisiti di resistenza ai quali sono sollecitate diciamo ali di aeree turbine e via discorrendo per cui una materiale assolutamente molto resistente e diciamo tornando alle parti che compongono la penna la serie opera è appunto una sorta di cerchio all'interno del quadrato in realtà comunque è sfaccettata per cui abbiamo una due tre quattro cinque sei sette otto sfaccettature e diciamo alla sommità trovate il mypen system per cui il logo visconti che si può togliere con una calamita e sostituire con segni zodiacali pietre preziose dei vostri iniziali semi preziosi in realtà come ho detto è sfaccettata clip classica del mondo visconti questa era la vecchia clip quindi comunque ancora con i caratteri incisi con la t un po più accuminata agli estremi sfaccettata l'ho già detto prima fondo termina con una specie di parte puntuta diciamo una sommità centrale puntuta il meccanismo con cui si svita il cappuccio è il look and safe lock che abbiamo visto anche nella bronze age piuttosto che insomma nella serie homo sapiens ed è molto 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 pratico perché è una facile estrazione si può estrarre fondamentalmente anche con una mano sola il riposizionamento implica due mani almeno per me e cos'altro dire vabbè la clip è chiaramente a molla è un po più stretta del solito noto e rivela un'altra lega metallica che quella del pennino il pennino è in realizzato in chromium 18 è una lega 72 per cento di ferro 18 di cromo e 10 per cento di nickel per cui una lega diciamo non particolarmente ricca se vogliamo perché non c'è oro però è interessante è un pennino tubolare perché abbraccia l'alimentatore che l'alimentatore in plastica in ogni sua parte proprio a tubo infatti vedete la gradazione del pennino è serigrafata qui con la f l'impugnatura è molto comoda anche se in metallo è svasata al termine in maniera tale da avvertirmi prima di finire sul corpo di scrittura anche se doveste farlo difficilmente vi macchiate le mani almeno che non abbiate pescato da poco l'inchiostro perché essendo un pennino tubolare insomma per finire sull'alimentatore ci dovete finire dovete fare uno sforzo in più questo è il foro di pescaggio ed è un'altra cosa che a livello di progettazione mi fa apprezzare questa penna essendo qui il foro implica che non dobbiate pescare cioè quando inserite il pennino per il pescaggio d'inchiostro la penna non l'ho detto prima è a cartucce o converter e rivela uno dei converter meglio riusciti di casa visconti perché è filettato quindi si innesta in maniera sicura diventa un pezzo unico con il corpo di scrittura sono i converter che apprezzo di più perché diciamo mi fanno soffrire meno la mancanza di un pistone quindi magari è una capienza sicuramente ridotta quella di avere l'intero fusto della pena che vedete quanto è spesso comunque comunque filettatura in metallo su filettatura in metallo anche questa ulteriore progettazione molto molto attenta perché non vi si rovina nel tempo il pescaggio dell'inchiostro stavo dicendo è facilitato perché dovete inserire con un livello di inchiostro fin qui dopodiché già vi pesca l'inchiostro quindi non dovete arrivare fino alla sezione dovendola poi asciugare quindi sprecando inchiostro scivola via sulla parte metallica viene trattenuto soltanto dall'alimentatore per cui insomma è una progettazione direi molto molto azzeccata all'interno c'è un contro cappuccio che ne isola il pennino e lo mantiene bello bagnato anche questo un accorgimento look and safe lock sistema sistema sicuro e di facile estrazione anche questo una innovazione introdotta da visconti notevole brevettata c'è scritto true black sulla veretta del del cappuccio ho detto già prima che realizzate navio direi che come parti della penna ci siamo allora datazione allora qui è la nota dolente del marchio visconti purtroppo non hanno a meno che voi non abbiate i cataloghi dall'inizio in poi in questo caso io non sono riuscito a datare questa penna ho visto che è stata messa all'asta diverse volte ahimè purtroppo non è registrata la data di asta e un ultimo esemplare che itapec ha trovato diciamo nel suo magazzino vi arriva qualora siete interessati all'acquisto in una nuova scatola visconti perché quella vecchia è andrata si era completamente distrutta era in pelle per cui anche qui ve la forniscono comunque una nuova custodia che è bella robusta con la garanzia e tutto il resto non è quella originale della penna mi hanno detto di dirvelo per onestà anche e trasparenza perché la custodia originale ahimè era andata un po' si è un po' corrotta però devo dire una penna decisamente interessante come dotazione stavo dicendo ho trovato riferimenti nel 2015 la serie opera è stata introdotta nel 2003 questo la serie metal ha annoverato la true black che è quella che stiamo osservando oppure la silver shadow che era un po' argentata diciamo un po' più argentata le finiture metalliche sono placcate in palladio per cui devo dire materiali comunque molto molto interessanti ma bando alle ciance so bene che volete vedere come si comporta questo pennino in cromio vediamolo subito nessuna falsa partenza in cromio vediamo ho fatto una pausa per dirvi che non conosco diciamo la dicitura del chromium come perché non è un elemento è una lega e non credo che sia abbreviato di sicuro lo trovate nella tavola degli elementi perché appunto è una lega a livello di continuità di flusso vediamolo subito l'inclinazione di questo del foglio mi permette di fare un test ulteriore dopo perdonate gli otto un po' storti sono abituati a farli sono abituati a farli con un'inclinazione diversa del foglio vediamo che il pennino comunque in tutte le direzioni non gratta è veramente ben arrotondato non vi ho detto prima che era disponibile dall'extrafine fino al brod e taluni l'hanno messo anche in stub lo avevano anche in stub in vendita l'ho visto in alcune aste vediamo la flessibilità del pennino è un pennino tubolare direte voi sarà rigidissimo perché abbraccia l'alimentatore in tutte le direzioni vediamo come si comporta con il solo peso della penna è un needle point fondamentalmente diventa fine quando ci mettete una lieve pressione guardate quanto flette è veramente interessante in realtà una variazione di tratto raramente offerta in una penna moderna anche con una certa continuità di alimentazione perché essendo un pennino tubolare difficilmente lo mettete in scacco perché l'alimentatore è abbracciato in ogni sua parte e il fenomeno della capillarità è esteso in tutte le pareti del pennino perché aderiscono tutte quante intorno all'alimentatore per cui una penna decisamente interessante molto ben progettata ahimè non ha avuto molto seguito forse perché la linea era particolarmente moderna io questo non lo so però guardate quanto la sto stressando più e più volte prima di avere qui una falsa partenza e insomma non la sto facendo scrivere come fine questi sono tutti medi come tratti questo è un tratto fine c'è una bella differenza tra il tratto fine che vi sto alternando alle linee medie che ho steso per cui uno dei più bei pennini per quanto non sia una lega ricca uno dei più bei pennini che io abbia visto sinceramente questa è la mia modesta opinione e l'esemplare che mi è stato fornito per la recensione non so se tutti si comportavano così comunque questo è il pennino spero di riuscire a mettervelo a fuoco come si deve anche mettendo il tracciamento del focus ho qualche difficoltà comunque molto 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 bello interessante con la scritta smart touch chromium 18 sta scrivendo con lo scrivo qua fuori campo ovviamente diamine rustic brown un marrone ruggine che mi sembrava fosse adatto più che altro come contrasto con la finitura matte black che comunque ha delle piccole venature sembra un po' legnosa come finitura cioè non è proprio matte liscia è opaca come colore sicuramente non è un nero lucido ma la finitura è deliziosamente un po' legnosa il pennino è perfettamente allineato con una delle sfaccettature il converter ve l'ho detto prima è filettato anche questo lo rende interessante vediamo un po' di scrivere la solita pagellina come sempre scrivo tutto commentiamo alla fine grazie a tutti Grazie. 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 Penso ancora meglio. Manutenibilità 10 su 10 perché è una penna a cartucce o converter. Bilanciamento. Oh, come piace a me. Spostato verso... Vabbè, chiaramente col cappuccio ci credo. Qui è un filino all'indietro. Tolgo un punto, quindi 9 su 10. Materiali. Allora, signori, qua sinceramente ammetto di essere un po' in difficoltà. Se dovessimo ragionare sulla preziosità dei materiali che compongono questa penna, parliamo di ferro, cromo, nickel per il pennino in differenti percentuali. 72%, pensate un po' di ferro, per cui una percentuale molto alta. Questo non è un pennino di lusso. Poi, quanto costi realizzare questa lega metallica è tutta un'altra faccenda. Non ne ho idea. Non sono versato nella metallurgia. Qualcuno di voi che magari conosce meglio le difficoltà di fare stare insieme questi materiali nella lega mi aiuterà, non credo molto, sinceramente, come percepito mio personale. L'Avional, utilizzato nell'aviazione, comunque fatto di, detto anche duro alluminio, una volta si chiamava così, una lega di rame, ok, però al 4,4%, manganese all'1,5%, magnesio 0,6%, quindi fondamentalmente alluminio. Quindi alluminio e un'alta percentuale di ferro. Da un punto di vista di preziosità dei materiali, uno gli dovrebbe dare 7 su 10, ok? Però, se consideriamo la resa, quindi una penna dalle dimensioni, ecco, un'altra cosa che non ho detto è l'impugnabilità. L'impugnabilità è un voto alto, perché secondo me la potete impugnare a diverse profondità. Essendo anodizzata, uno farebbe fatica a calzare il cappuccio, ma in realtà il cappuccio non va a insistere sulla parte anodizzata, ma sulla parte metallica. Quindi, mal che vada, graffiate il metallo, non togliete il colore. Quindi, potete calzarla, in sintesi. Per cui, raggiunge delle dimensioni imponenti, per me è un 10 su 10. Stavamo parlando dei materiali, perdonate la digressione. 7 su 10, se considero le tipologie di metalli coinvolte. Però, signori, sono materiali che non si vedono spesso nel mondo delle stilografiche. Secondo me, dato il costo di emissione, che era, ho visto, 650 dollari, quindi comunque un costo abbastanza altino. Parliamo di una penna databile un po' prima del 2015, sicuramente. Tra il 2003 è un bel range e il 2015 troviamo, vi divisco conti, questa penna qui. Per cui, sono 12 anni, la serie opera è nata nel 2003, ok? La trazione, i riferimenti che ho visto, gli unici con la data, erano del 2015, per cui parliamo di qualcosina in meno. Era una recensione, credo, di un rumeno, qualcosa del genere. Impugnabilità, 10 su 10. Materiali, 7 su 10, sinceramente non me la sento. Quando vedo un pennino che si comporta in questo modo, un materiale altamente resiliente, se lo vedo dal punto di vista dell'utilizzatore, io vado sul 10. Perché è un pennino moderno che si flette, allarga il tratto da, se io uso la penna con il suo solo peso, diventa quasi, è un extra fine che tende al needle point. Il pennino è un fine, come gradazione dichiarata, ma come gradazione raggiunta arriva all'emme. Insomma, voi state variando dall'extrafine, anche il needle point, NP, volendo, al fine, al medio. Quindi un largo spettro di utilizzo, un'alta resistenza del materiale, ha il giusto peso. Cioè, me la sento bene, adesso magari prendo anche la bilancina dopo che finiamo la pagella. Rapporto qualità-prezzo. Allora, BuyPayShop, da quello che ho visto, la sta vendendo intorno ai 450€. La penna è nuova, eh. Tenete conto che l'ho inchiostrata solo io. Per cui, la pulirò in maniera maniacale. Userò anche un gettito di aria compressa per liberare, al mio meglio, le pareti che, in questo momento, sono belle inzuppate d'inchiostro. Per far sì che torni a Itapec in maniera impeccabile, sostanzialmente parliamo di una penna nuova, che non ho intenzione di stressare più di tanto. Che dire, manca la prova del bilancino, perché non sappiamo quanto pesa. Per darvi la contezza di quanto pesa questa penna, è il caso proprio. Posso mettervela a paragone, innanzitutto, come grandezza. Questa è una Wingsung 699. Questa è una Pelican M800. E questa è una Leonardo Momento Magico. Sì, credo che sia una Momento Magico. Non mi ricordo più in questo momento. Comunque è una Verde Smeraldo. Sì, mi sembra che sia una Momento Magico. La versione con la finestrella nascosta. per darvi qualche termine di paragone. Ecco, non completo sicuramente. Manca la solita Lami Safari, che in questo momento ha portata di mano. Non è una penna che uso spesso, devo dire. Vediamo quanto pesa. Allora, ecco qui il mio bilancino. Non ha bisogno di tara, perché è già a zero. La penna inchiostrata, quasi al suo massimo, pesa, pensate un po', 58,7 grammi. Per cui un peso decisamente, unità di misura, 58 grammi e 67. Vi ho fatto una carrellata di altre unità di misura. Il cappuccio da solo pesa 22,6 grammi. La penna da sola pesa ben 36 grammi. Per dare un termine di paragone, vediamo quanto pesa una M800. Appena 29 grammi, ok? 29 grammi contro ben 58,6. Per cui è una penna decisamente sostanziosa nelle vostre mani. Io non la sento troppo pesante. Per me è il peso giusto. In tutta onestà, spero che ve la compriate prima possibile, perché se scopro che da qui a un anno Itapec ancora non è riuscita a venderla, sarò veramente, veramente tentato, perché mi piace molto. Anche se non è una penna colorata, di solito io preferisco penne colorate. rispetto all'Opera Master, che è una, diciamo, a dimensioni un po' più grandi. Adesso ve le faccio vedere. A dimensioni talmente tanto grandi che ho dovuto prendere un contenitore in similpelle apposta per la penna, perché non ci stava da nessuna parte. Vedete, è un po' più grande. Non di tanto, è un po' più cicciotta l'Opera Master, devo dire, come grossolanità anche di fusto. E forse riesco a non comprarla soltanto perché ce l'ho in versione più grande, cioè c'è l'Opera Master. Però devo dirvi la verità, la uso veramente di rado, perché ha dimensioni molto, molto grandi. Vediamola anche a paragone di peso, perché uno dice, vabbè, più grande peserà di più. Sì, io cerco di chiuderla, di premere l'ON quando è chiusa la bilancia. Allora, 51 grammi, 58 a 6. Per cui avete un peso decisamente superiore, anche se non mi sono stancato di scrivere, sinceramente. Una flessione di pennino decisamente interessante, una variazione di tratto. Gli aspetti negativi quali sono? Eh, quali sono? Boh, sinceramente non lo so. Se c'è chi tra voi ama le penne più leggere, boh, buon pro gli faccia, ma sinceramente... Qui mi ha dato una falsa partenza, ma... Sinceramente dà più controllo di scrittura a tutto questo peso. Le dimensioni sono maneggevolissime, sinceramente. Va bene, direi che mi sono dilungato abbastanza. Si capisce quando una penna colpisce, sia per il coraggio nella scelta dei materiali, un'innovazione... Credo fosse il periodo più florido per Visconti, in cui osava sperimentare con molti, molti materiali di leghe, fatture differenti. La serie opera è sicuramente una serie abbastanza amata e conosciuta tra gli appassionati, tra noi appassionati. Il Dream Touch... No, in questo caso non è il Dream Touch Nib, perché quello era in Palladio. Pensate a che varietà di leghe ci hanno abituato. 23 carati di Palladio. Questo invece è Smart Touch in Chromio 18. Per cui una interessante stilografica, sicuramente. e sono molto contento di averla avuta, perché ha fatto un po' la storia. Anche questo è un frammento della storia di Casa Visconti, fondamentalmente. Bene, grazie agli amici di Itapec per avermela prestata. Mannaggia a voi, perché mi tentate ogni santa volta che mi prestate le penne. E niente, grazie a tutti voi per aver visto il video fin qui. Spero vi sia piaciuto. Cliccate sul like nel caso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete tra i fortunati che siete riusciti ad accaparrarvi questa penna, fatemi sapere come vi trovate, perché comunque questo è l'unico esemplare che è giunto nelle mie mani e che spero riuscirò a, insomma, così come l'ho ricevuto, ridarlo indietro. È sicuramente impegnativa. Quindi sicuramente l'aspetto non è economica. Le penne di Casa Visconti di questa fascia, insomma, cominciano ad essere molto impegnative. Siamo sui 450 euro, è decisamente impegnativa. Però, uno un pensierino ce lo fa quando vede queste prestazioni, sinceramente. Grazie a tutti e al prossimo video, stilograficamente parlando. Ciao!